Ciao, come smettere di provare gelosia? Beh, la prima fase è una fase logico-razionale, cioè comprendere che la gelosia non serve. Tutte le persone gelose finiscono per essere tornute. La gelosia è come una bagliere di cani che attiri ladri. Di questo dovresti essere consapevole. Se non lo sei, prova a essere geloso nel momento in cui scoprirai di avere le corna e ti renderai conto che è vero. Dopo due o tre volte che verrai cronificato, ti renderai conto che essere gelosi non funziona. Devi instaurare un pensiero opposto. Pensare, anziché essere geloso, poverino, poverina, non sa quello che si perde. Se va con un altro, non sa quello che si perde. E poi, d'altra parte, ognuno è libero di fare quello che vuole. Cioè, tu non puoi costringere un altro o un'altra a non fare qualche cosa. Anzi, più cercherai coercitivamente di non fargli l'affare, più la farà. Se hai degli antagonisti, spingi l'altra persona verso gli antagonisti. Fottitene. Vedrai che invece verrà da te. Cioè, beh, ho conosciuto Giuseppe. Ah, bene. Perché non vai a cena con Giuseppe stasera? Ma sì, vai pure, tranquillo, tranquilla. La cosa fondamentale è quella, insomma. Quindi devi evitare, devi evitare di cercare di bloccare l'altra persona. Anzi, paradossalmente, devi spingerla verso l'altra persona. In questo modo otterrai esattamente l'effetto contrario. Quindi quella persona lì si attaccherà a te come una piattella si attacca a uno scoglio. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!